Presidente Ceriscioli, cosa rappresenta Risorgimarche? Questa esperienza rappresenta il ritorno, il punto d'arrivo della ricostruzione. Noi l'abbiamo detto fino al primo giorno, questi luoghi sono bellissimi, straordinari, hanno bisogno di essere ricostruiti dopo quello che è venuto con il sisma, ma non sarà solo un fatto di pietre, mattoni, luoghi che materialmente si ricostruiscono, ma il ritorno delle persone. Grazie a Neri Marco Rei, tra i ricerci artisti, si mette in moto questa macchina del ritorno. I luoghi si fanno vedere come visitabili, come luoghi di interesse, nella volontà di portare il primo segno, un primo segno forte di questo ritorno. Noi stiamo lavorando per questo, tutti quanti per ricreare tutte quelle condizioni che permettano alle comunità marchigiane di ripartire dopo un evento così pesante, che la musica possa fare da tramite come elemento canalizzatore di questo percorso, una cosa molto bella, sta nelle caratteristiche della nostra regione e lo vogliamo accogliere con questi 13 concerti come quasi un'anteprima di quello che sarà tutto il percorso del ritorno. Anche per questo significa proprio dare questo primo segno che è quello che vogliamo costruire. Grazie.